Ciao sono Lucia Tolico, psicologa e psicoterapeuta e in questo video voglio parlarti della seconda regola d'oro. Cominceremo dalla situazione da cui parti e arriveremo in breve a capire cosa fare. Cominciamo! Qual è la tua situazione? Nella situazione da cui partiamo capiremo il cosa, il dove e il perché. Seguimi! Cosa? Cosa sa fare tuo figlio alla sua età? Ad esempio come se la cava con gli incassi oppure con i lacci delle scarpe o con i compiti di scuola. Dove? Dove risiede il suo problema? Si arrabbia o resta troppo deluso quando non riesce a imparare ciò che è naturale alla sua età? Perché? È importante saperlo perché in una crescita sana è naturale acquisire autostima e fiducia in se stessi, una delle basi psicologiche più importanti dell'essere umano. Cos'è l'autostima? È il giudizio che la persona dà di se stesso. Come acquisirla? Qui vediamo cosa fai tu, cosa impara lui e cosa succede. Partiamo con la prima. Cosa fai? Tuo figlio sa già compiere alcune azioni ma tu lo aiuti troppo oppure le fai al posto suo? Come allacciargli le scarpe, invoccarlo oppure aiutarlo troppo nei compiti? Cosa impara? Il bambino impara a giudicare se stesso in base a ciò che riesce a fare, alle lodi e alle critiche che riceve. Mettersi in gioco è il primo passo per conoscersi. Conseguenza. Quando sei tu a fare ciò che spetta tuo figlio, lui avrà difficoltà a capire chi è, cosa sa fare e quindi avrà difficoltà a creare la fiducia in se stesso. Anzi, sarà indotto a pensare di non essere all'altezza del compito, qualunque esso sia. Cosa fare allora? Puoi mostrargli come si fa. Forse non imparerà il primo colpo, ma se continui a indicargli il come si fa prima o poi a forza di inesattezze ed errori ce la farà. Mentre sbaglia, consolalo. Digli quante volte hai sbagliato tu. Lodalo per ogni piccola cosa che fa correttamente durante la sua personale ricerca nell'imparare. Così facendo lo confermerai nelle sue capacità. Costruisci oggi perché tuo figlio sia l'adulto responsabile di domani. Ti è piaciuto il video? Bene, fammelo sapere con un pollice all'insù, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere informato dei nuovi video in arrivo. Io ti do appuntamento alla terza regola d'oro. Ciao!